La nostra presenza sta a testimoniare un nostro continuo impegno nelle attività legate allo sviluppo del settore energetico e a quella della ricerca correlata. Esprimeremo oggi ancora una volta che il tema dell'energia è uno dei temi focali, che è un commitment del nostro pianeta in questo momento, e quello di produrre l'energia necessaria per sostenere lo sviluppo dei paesi evoluti e a quello dei paesi emergenti, ovviamente in maniera compatibile con l'ambiente. Cercheremo di capire quindi quali sono i driver di questo sviluppo e racconteremo qual è il ruolo del nostro gruppo industriale, che è fortemente presente in Campania con delle attività produttive, ma è anche fortemente internazionalizzato in Europa, con presenze in Europa, in Nord Africa e in Medio Oriente, cercheremo di tracciare quelle che sono le linee evolutive delle tecnologie e quello che è il profilo delle aziende che ovviamente si candidano all'operare in questo settore con successo. Riteniamo che questa sia una buona opportunità per dare una chance alla Campania, per utilizzare al meglio le risorse scientifiche di cui dispone e anche i potenziali di industria che ovviamente devono imparare ad andare nella direzione che stiamo dicendo e fondamentalmente fare il sistema.